Si è svolta sabato 7 ottobre una cena con un show cooking per celebrare la consolidata collaborazione tra la Fiera d'Isola della Scala e l'Enaip, ente di formazione professionale. Enaip trova nelle nostre strutture il punto di perfezionamento dei propri ragazzi ed Enaip ha dato la possibilità a Dente Fiera e alla Fiera del Riso di crescere tanto, è stato un consolidamento di rapporti, quindi anche Enaip ha fatto la propria parte, i giovani di Enaip ci stanno veramente dando una mano a fare meglio. Attraverso la modalità dell'impresa formativa i giovani possono sperimentare esperienze più vicine al mondo del lavoro e dobbiamo ringraziare la Regione del Vento che per prima in maniera anche pionieristica ha investito in questa nuova modalità didattica. È solamente sul campo che si riesce appunto a capire quanto sia bello lavorare in cucina, toccare la materia prima e far da mangiare e dar da mangiare alle persone, quindi secondo me è una cosa vero ragazzi? Sì Tutte queste persone hanno dato l'opportunità ai ragazzi della nostra scuola di Enaip di Isola della Scala di mettersi in luce, di far vedere quello che stiamo facendo con loro e di metterli in contatto anche con le aziende del territorio. Questo per noi è un grandissimo trampolino di lancio in maniera che i nostri ragazzi trovino lavoro nella maniera più sicura e veloce possibile. Grazie a tutti. Presenti anche importanti esponenti del mondo dell'imprenditoria senza i quali non sarebbe stato possibile creare questa sinergia scuola-impresa. La bellezza innanzitutto è quella dei giovani che hanno armoniosamente preparato dei piatti straordinari, la bellezza dello stare insieme, la bellezza del gusto e quindi credo che a ogni sguardo puoi trovare veramente un momento di bellezza, di piacere e di benessere. I giovani sono il 20% della popolazione italiana e il 100% del nostro futuro. Come si fa a non investire sui giovani? È la cosa più semplice e più necessaria da fare. La fondazione ha deciso sei anni fa di non fare elargizioni ma di fare investimenti e allora investiamo sul futuro, sui giovani. Una collaborazione che non finisce qui perché dura per tutto l'anno scolastico. Infatti i ragazzi qui presso le nostre cucine fanno lezione proprio praticamente per cui non solo in aula ed è una collaborazione che ormai dura da moltissimo tempo. E devo ringraziare i ragazzi, gli insegnanti soprattutto perché ci hanno seguito insieme alla associazione italiana sommelier per tutto il mese per cui è stato un sacrificio abbastanza lungo ma credo che sia ripagato ma soprattutto ho visto che i giovani si divertono e saranno sicuramente gli chef del futuro. Grazie a tutti.